Vivo con piacimento, come si dice, per questo progetto simpatico e innovativo, l'ecomotivante. L'idea originalissima, in qualche maniera trova un contesto adeguato in Puglia, noi tra gli interventi che hanno riguardato il settore trasportistico ne abbiamo fatto uno, tra virgolette, di decoro, su un recupero delle stazioni liberti che erano in condizioni di degrado in alcuni territori prevalentemente del Salento. L'idea di rimettere in campo dei vecchi treni storici come vettori turistici per raggiungere la piazza mercato dei nostri prodotti bio, i prodotti della filiera corta. La filiera corta è un tema, man mano che cresce la cultura del biologico, che allestisce sempre più in maniera gradevole mercati e piazze. E quindi, complimenti per questa idea. Il progetto premio di ecotreno per fare la server bio-decomotiva, con una piccola introduzione che poi servirà con l'illustrazione dinamica di quello che voi trovate descritto nella cartellina in maniera cartacea. Invece abbiamo cercato di renderlo visivo e tangibile, con attività che non guasta mai. Grazie a tutti.